Eccoci, ben trovati di nuovo, buongiorno a tutti, ragazzi, bambini, tutti quanti, è sempre un piacere rivedervi, in qualche modo, dai! Ci vediamo allora, carissimi, sta davanti a noi la prossima domenica, l'ultima prima del Natale, eh? Allora ancora ci regaliamo questi momenti in cui rimanere connessi, eh? Connessi con le cose belle che ci stanno davanti, con un momento di preghiera e di riflessione insieme, guardiamo un po' alla vita di Gesù. Allora, cominciamo subito, è la nostra quarta puntata, facciamo una bella preghiera, il Padre nostro, vi lamentate, ormai l'abbiamo scritto, l'avete visto, il cartello è tutto, possiamo pregarlo come lo stiamo pregando nelle messe, eh? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen! Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, Amen! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen! Ecco, allora dicevamo, siamo ormai vicini, ci siamo, il Natale è alle porte, vogliamo allora guardare insieme il Natale proprio, la nascita di Gesù in Palestina a Betlemme. Allora, per orientarsi ragazzi, oggi faremo un piccolo viaggio, eh? Ci dotiamo anche di strumenti molto tecnologici, beh, insomma. Comunque ho delle cartine, cominciamo allora da qua, guardate. Spero che si possa vedere bene, ecco che possiate leggere. Dunque, vedete, lo riconoscete sicuramente. Qui c'è l'Italia, qua ci siamo noi, più o meno, vedete? Allora, siamo al tempo dell'impero romano. A quei tempi Roma, l'imperatore, governavano su tutti questi paesi, non avevano ancora questi nomi, che sono quelli moderni, la Francia, la Germania, eccetera, ma si chiamano i paesi del bacino del Mediterraneo. Tutto, tutti i paesi e le zone che si affacciano sul mar Mediterraneo sono sotto il governo di Roma, dell'impero romano, al tempo di Gesù. Dov'è la Terra Santa? È piccolina in realtà, guardate. Sta qui, se riesco a indicarla. Ecco, è questo angolino qui, vedete? Tutto a est, a oriente, rispetto all'Italia. Sta qua giù, un fazzolettino di terra in realtà, molto piccolo. Ai tempi di Gesù si diceva una provincia romana. Il nome di Israele l'ha preso dopo, è l'antico nome del popolo di Israele. Comunque si chiama Palestina, la terra della Palestina. Eccola qui, vicino, vedete, all'Egitto. Questa zona qui si chiama anche Medio Oriente, perché sta fra il Mediterraneo e l'Estremo Oriente, l'Asia, la Cina, eccetera. Siamo in questo angolino qui. Qua si vede un pochino più, appunto, come vi dicevo, spostati, se ci vogliamo spostare verso est, per vedere. Vedete, qui in questo angolino c'è l'Italia. Ecco, qua tutto l'Arabia. Dov'è la Terra Santa? Questo fazzolettino qui. È un rettangolino piccino che si affaccia un po' sul mare, ma che, grosso modo, è una terra abbastanza anche arida. C'è un unico fiume che la attraversa. Allora, questo per avere una panoramica della geografia. Qui la cartina è molto, molto, molto più ingrandita. Finalmente si può vedere bene. Spero che riusciate a leggere anche i nomi e a vedere. Voi, vedete, qui c'è il mare. È quel fazzolettino di terra super, super ingrandito, in modo che si possano leggere, appunto, i nomi. Quando mi riesce di trovare un'inquadratura bellina, quando volete, voi mettete pausa e ve la potete leggere con calma. Allora, vedete tutta la zona della Terra Santa, questo fiume importantissimo, il fiume Giordano, che si diceva il lago di Tiberiade, l'unica risorsa d'acqua della Terra Santa, questa qui. Qui c'è Nazareth, in una regione che si chiama Galilea, vedete, sta al nord. Nazareth, qui si distingue un pochino questo disegno, la Santa Famiglia. Qui Maria ha ricevuto l'annuncio dell'angelo e Giuseppe l'ha presa come sua sposa in casa. Andando a sud, si trova l'altra regione, che si chiama Giudea, lo vedete scritto qui, e Gerusalemme, la città santa. Betlemme è un pochino a sud di Gerusalemme, ci sono cinque chilometri fra Betlemme e Gerusalemme. Ecco, sta qua. Allora, perché questa cartina, ecco, ricordiamocela, teniamocela un pochino in mente, perché al tempo in cui Maria ha ricevuto l'annuncio dell'angelo e deve nascere Gesù, e Giuseppe l'ha presa come sua sposa, che cosa succedeva nella provincia della Palestina dell'Impero Romano? L'imperatore Augusto voleva fare un censimento, si dice, cioè voleva contare quanti abitanti ci fossero nella sua provincia, nei suoi possedimenti. Va bene, il censimento è una cosa che si fa anche ai tempi nostri, e mi ricordo quando ero ragazzo, al liceo, furono mandate le schede in ogni famiglia, bisognava scrivere. A quei tempi non è che si mandasse tante cose, si diceva alla gente di muoversi, cioè si diceva, Siccome vogliamo contare quanti siamo in questo paese, ognuno dalla città dove abita deve tornare nella città che è quella d'origine della sua famiglia. Siccome Giuseppe, vi rammentate, è un uomo della casa di Davide, cioè a dire è discendente di Davide, di questo casato, il casato di Davide è originario di Betlemme, per cui Giuseppe e Maria, con Maria che aveva già il pancione, dovettero mettersi in cammino e da Nazareth, a piedi naturalmente, raggiungere, magari con un ciuchino, per aiutare Maria che aspettava il bimbo, era già molto avanti nella gravidanza, per cui per aiutarsi nel cammino dovevano raggiungere Betlemme qua. Allora, ricordatevi questa cartina, guardate bello, un bel cammino, una grande avventura che devono compiere Maria e Giuseppe per arrivare a Betlemme, c'è un motivo, perché devono andare a registrarsi per questo censimento. Allora, la cartina ora la tolgo e comunque l'avete vista. Allora, Gesù, infatti, si chiama Gesù di Nazareth, poi dopo più dal grandicello la loro residenza sarà fissata a Nazareth, come si diceva, però è nato a Betlemme, a motivo di questo ordine dell'imperatore che voleva che tutti i cittadini si facessero contare, si facessero registrare il censimento. Maria, dunque, che aspettava la nascita del suo figlio, dovette partire, obbedire a quest'ordine con Giuseppe per Betlemme. Arrivati a Betlemme, però, c'era così tanta gente che non riuscirono a trovare un posto dove alloggiare. Rimaneva soltanto una stalla, erano affaticati dal viaggio, per l'appunto già stava finendo il tempo e Maria sentiva che stava, ci siamo, stava per nascere Gesù e proprio lì, in quella stalla, nella notte, a Betlemme, nacque Gesù. Non c'era neppure un lettino, un posto povero, proprio una stalla, gli animali con il loro fiato caldo riscaldavano, c'era il fieno, la paglia pulita, Giuseppe fu bravo a preparare tutto al meglio per la sua sposa, non c'era un lettino. Allora Maria mise il piccolo Gesù nella mangiatoia. Lo sapete com'è fatta la mangiatoia? È proprio come una specie di culla, però è un luogo di pietra o di legno dove si mette dentro il mangiare per le mucche, per gli animali. Eh, e Gesù è stato accolto lì. La sua prima culla è stata una mangiatoia. Lì nei dintorni di questa stalla a Betlemme c'erano alcuni pastori che pascolavano le pecore, lo sapete, i pastori per sorvegliare le pecore perché non venga, magari soprattutto durante la notte il lupo, dormono lì, dormono all'aperto, dormono con le pecore, stanno lì appoggiati un po' al bastone e vegliano. All'improvviso questi pastori videro in cielo delle stelle meravigliose, gli angeli, fare festa. E lì per lì si spaventarono. Che cosa dicevano gli angeli? Cantavano. Che cosa? Il gloria. Quello che noi facciamo tutte le domeniche a Messa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore, agli uomini che Dio ama. È una gloria nei cieli e la pace sulla terra. Proprio gli angeli stanno annunciando che è nato il Salvatore. Non abbiate paura, dicono gli angeli e i pastori, che rimangono un po' intimoriti a vedere i cieli aperti, le schiere degli angeli, che proprio a loro per primi annunciano questa grande gioia. Cosa dicono gli angeli? Oggi è nato per voi il Salvatore che aspettavate da molto tempo. Perché è vero, tutto il popolo di Israele, e Maria stessa, Giuseppe, tutti quanti erano nell'attesa del Salvatore promesso. Tutti i profeti lo avevano annunciato. La religiosità intera del popolo di Israele attendeva il Messia, si dice il Cristo. È una parola strana, antica, ma vuol dire il Salvatore, quello mandato da Dio per la salvezza degli uomini. I pastori allora si mettono subito in cammino, ricevuto l'annuncio degli angeli, e cosa trovano? Trovano la stalla, la mangiatoia, il piccolo Gesù lì adagiato, Maria Giuseppe. I primi a vedere il Salvatore del mondo sono stati proprio dei semplici pastori. Pensate un pochino, ecco il presepio. Quello che noi chiamiamo il presepe è questo qui, la capannuccia o la grotta o comunque un luogo umile, un po' freddo, povero veramente, non c'era posto per loro da altre parti nella cittadina di Betlemme, trovano un rifugio lì. Nella mangiatoia viene posto Gesù, Maria e Giuseppe si scaldano, fanno l'insieme agli animali nella stalla, i pastori sono i primi ad arrivare, la gente povera, gli ultimi. Gli angeli annunciano una grande gioia perché è nato, nella città di Davide a Betlemme, il Salvatore del mondo. Questo è il Natale. E carissimi, quest'anno, forse più di sempre ci è dato di viverlo in modo ancora più vicino all'autentico Natale, cioè senza tanto altro sfarzo. Avete visto, a motivo dell'emergenza sanitaria non potremo girare tanto quanto forse eravamo abituati a fare o anche vorremmo fare. Non possiamo. È bene rimanere prudenti, forse rimaneremo soltanto con babbo e mamma, i fratellini, forse addirittura i nonni, le nonne, li vedremo in un altro momento forse. Sarà un Natale povero, più semplice. Avete visto, senza tante feste, senza tanto andare in giro, ma molto molto autentico forse. Più povero e più vicino, diremo, a quello che è proprio ciò che Gesù ha vissuto appena nato. Soltanto una mangiatoia, una povera stalla, non c'è altro se non quello che serve. E su questo sicuramente ci siamo. Quest'anno forse saremo in qualche modo ancora più aiutati a viverlo in autenticità. Allora, vedete, vi faccio rivedere di nuovo il luogo, la cartina, la terra dove tutto questo è avvenuto. Vedete il disegnetto Betlemme, la stella, parleremo poi dei magi, anche nelle prossime puntate diremo. Per ora, ecco, se volete, la potete anche disegnare, se volete la ricopiate, comunque è così bello. Ecco, qui tutto nasce, nasce per noi il Salvatore. Allora, a conclusione, e quindi già davanti a Natale, come ci mettessimo un momento in silenzio, in preghiera, magari davanti al presepe che avete fatto in casa, l'ho fatto anch'io. Che bello. E ho scoperto che la mamma, lo sapete, la mia mamma non c'è più, è morta a maggio, aveva lasciato, e l'ho scoperto soltanto facendo il presepe, andando a prendere gli scatoloni in soffitta, aveva lasciato tutti gli scatoloni in ordine, con scritto per il Natale del 2020. Chissà, forse sapendo che la malattia era già abbastanza avanzata, non ci sarebbe arrivata a celebrarlo, diciamo, con noi, ma aveva lasciato tutto preparato. Allora, era tanti tanti anni che non ero più io a farlo il presepe, ci pensava la mamma a casa, ci capitavo raramente. Invece, ecco, quest'anno l'ho fatto anch'io, insieme al mio babbo, e un momento davvero bello. Allora, davanti ai nostri presepi semplici, quest'anno vi potete radunare lì, ecco, in silenzio, per una piccola preghiera insieme. Concludiamo questo incontro lasciando che sia proprio il Vangelo a risuonare, il Vangelo che ci parla della nascita di Gesù, è il Vangelo di Luca, eh, che ridisce, ecco le parole del Vangelo, tutto quello che vi ho raccontato. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno, nella propria città. anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Qui si dice salì, in realtà dal nord si va giù, però bisogna attraversare delle alture, Gerusalemme è su una collina, è abbastanza in alto per poi arrivare a Betlemme, per cui si dice salì, eh, a Betlemme. Giuseppe apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore ma l'angelo disse loro non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio e diceva gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo i pastori dicevano l'un l'altro andiamo dunque fino a Betlemme vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato detto loro allora questo è il Vangelo bello solenne accogliamolo troviamoci un momento nella nostra giornata per stare un pochino davanti al presepe guardare entrarci proprio dentro pensare a questa semplicità a questa povertà e questa gioia grande che ci è annunziata è nato il Salvatore e concludiamo questo nostro incontro con una bella preghiera che è l'Ave Maria vi ricordate vi avevo promesso l'avremmo scritta ecco insieme allora scusate perché non è mai facile riuscire ecco allora così si inquadra e la preghiamo poi voi mettendo pausa e così via la potete anche scrivere ricopiare sul vostro quaderno ecco per averla metteteci tutte le decorazioni che voi sapete fare molto meglio di me eh fate la proprio bella tutta colorata Aveo Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Ame Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Ame Grazie ragazzi grazie della vostra pazienza della vostra attenzione ci vediamo a Natale e già da ora un grandissimo abbraccio a tutti